Salve, per la rubrica Santi e Beati di oggi parleremo di una santa e di un santo che erano comuni nel IV secolo, anche se poi la vicenda più o meno è stata così, collocata nella fine del secondo. Parleremo di Santa Dorotea e San Teofilo. Naturalmente la chiesa oggi festeggia San Michi e Paolo e compagni, però noi appunto non abbiamo questa consuetudine di rimettere in evidenza ciò che la Santa Chiesa mette già sulla liturgia corrente, quindi andiamo un po' alla ricerca di quelle figure che un po' nascoste non vengono valorizzate per quanto dovrebbero essere. Quindi questo canale cerca in ogni modo di poter dare così un attimino voce a tutti quei santi, a tutte quelle opere che la Santa Chiesa ha proclamato giuste, in questo caso sia Santa Dorotea che San Teofilo, e che molte volte appunto per varie situazioni non vengono più messe in evidenza, ma anzi vengono accantonate, quando poi alla fine rimangono dei validissimi esempi per noi per tutti i secoli. Quindi ci troviamo in Cappadocia, come dicevo prima, fine del secondo secolo e abbiamo una virtuosa, questa ragazza molto virtuosa, troppo virtuosa, che in qualche maniera stona con le persone che le sono intorno. La sua ascese è talmente alta, le sue preghiere, i suoi sacrifici, le sue opere di carità sono talmente alte che incontrano i malumori delle altre persone, tanto più che lei viene segnalata ad un tiranno del luogo. Questa segnalazione sicuramente la porta nelle mire di questo uomo che la convoca e la intima, le intima appunto di rinnegare il Cristo, per sé servire ed offrire la vita, più che la vita, tutte le offerte agli dèi. Quindi sacrificare la propria vita, quindi donare la propria vita, non nelle estreme conseguenze, ma usando comunque tutti quegli accorgimenti che erano del tempo di dare, di donare, di offrire tutto agli dèi. Naturalmente lei non accetta e prima di essere sacrificata, di essere immolata, il tiranno le mette vicino due persone che all'inizio erano cristiane e poi comunque per o per paura o per altre motivazioni rinnegano la fede e abbracciano quelle degli idoli. Le due ragazze appunto avvicinano Dorotea, la quale non viene così persuasa a cambiare la sua fede, ma bensì, è lei a persuadere queste due ragazze. Quindi queste persone, queste due signore, queste due ragazze tornano dal tiranno e gli parlano palesemente di essere ritornate al Cristo. Naturalmente loro vengono immolate e vengono martirizzate, perché questo era un po' la naturale conseguenza. Allora cosa succede che oltretutto il tiranno non essendo solo stato irritato perché Dorotea non si fosse convertita, ma anzi è riuscita con la sua santità a convertire altre, le due persone che si erano avvicinate agli idoli. Naturalmente non può esserci altra soluzione che mettere a rogo Dorotea. Metta il rogo Dorotea, ma naturalmente la sua santità e questa grandissima scese di conversione che ha come dono carismatico, riuscirà a convertire un'altra persona prima di morire. Ecco, quando noi parliamo appunto di fattori in cui arrivano delle conversioni, arrivano dei miracoli. Ricordiamo sempre che per i tanti miracoli che avvengono sulla terra ci sono tante persone che si offrono, tante persone che offrono le loro preghiere, offrono la loro vita, offrono i loro sacrifici, tutto il Cristo. Esistono sicuramente delle situazioni particolari in cui uno può essere convertito. Ma ricordiamoci che la conversione, per arrivare a quello stadio, qualcun altro, in una maniera o nell'altra, deve avere comunque pagato un prezzo. Perché come il Cristo ha riscattato l'intera umanità attraverso il suo sangue, anche noi per le conversioni, per arrivare a quel punto come era arrivata a lei di riuscire a convertire tre persone, dobbiamo arrivare a un livello di preghiera notevolmente alto, a un livello di sacrificio veramente elevato, a un livello di consapevolezza di essere in Cristo notevolmente superiore alla media. Ed ora ascoltiamo quello che ci dice appunto questa narrazione. Il 6 febbraio cade la memoria significativa e simbolica di Santa Dorotea, vergine e margine nel 284 d.C., considerata patrona dei fioristi e dei frutti vendoli per il famoso miracolo del cesto di mele rose in pieno inverno e molto venerata nel medioevo, tanto da essere una dell'equator virgenes capitales, insieme a Caterina, Barbara e Margherita, oltre che inserita nel gruppo dei santi ausiliatori. La sua vicenda si svolge nella Cappadocia, antica regione dell'Asia minore. Qui sorgeva la città di Cesarea, capitale così chiamata in onore dell'imperatore Tiberio. In questa città, sul finire del III secolo, viveva la nostra Dorotea, la quale, con molta dedizione e costanza, onorava il Signore in digiuni e orazioni. Sin da bambina si distingueva per le opere di carità, straordinaria saggezza e purezza di cuore. La sua passio, molto antica, ma integra da molti elementi leggendari, fa capire che la fanciulla fu anche oggetto di invidia da parte di molti, incapace di giungere all'altezza delle sue virtù. Furono forse queste persone che fecero arrivare all'orecchia del tiranno le lodi che si facevano di Dorotea. Da qui si innesca l'inquisizione e il processo. Al tempo di questa santa vi era in Cesarea un persecutore di cristiani, Saprizio, il quale, venuto a sapere che Dorotea era seguace di Cristo, la convocò per persuaderla ad offrire sacrifici agli dèi. Ma visto che la giovane era ferma nelle sue convinzioni di fedele cristiana, la fece legare una catasta minacciandola di farla morire tra le fiamme, se non avesse rinnegato la fede. Vedendo che Dorotea non mostrava alcun timore di finire tra le fiamme, Saprizio la fece togliere dalla catasta e la inviò a due ragazze che avevano rinnegato la fede. L'una si chiamava Crista, l'altra Calista. Nomi entrambi che testimoniavano che le due sventurate erano state cristiane. L'effetto che Saprizio sperava era che le due concittadine persuadessero a Dorotea ad offrire sacrifici agli dèi, descrivendole le pene atroci di una morte così fiorente. Al contrario, Crista e Calista furono di nuovo convertite alla fede dalle parole persuasive di Dorotea, la quale ripeteva che la fede cristiana era l'unica che dava la salvezza eterna. Così le scattate Cristo e Calista ritornarono al palazzo di Saprizio e a lui proclamarono la riacquistata fedeltà a Cristo. Immediatamente furono condannate a rogo. Dorotea, ancora più felice perché le due avevano con coraggio affrontato il martirio in nome di Cristo, affrontò l'ira di Saprizio elevando le lodi al Signore. Avvenne che la santa uscendo dal palazzo per andare al martirio incontrò al giudice Teofilo, il quale era stato presente quando Dorotea diceva a Saprizio che il suo sposo era in cielo e come lassù i giardini erano pieni di fiori e di frutti. Teofilo subito si mise a deriderla, tanto che le disse, ti prego, mandami delle mele e delle rose dal paradiso. Dorotea rispose che avrebbe soddisfatto la sua domanda anche se provocatoria. Prima di essere decapitata, Dorotea pregò in un estremo atto di fede. Finita l'orazione, ecco giungero un angelo nelle sembianze di fanciullo che offrì a Teofilo le mele e le rose richieste. Poi l'angelo scomparve. Allora Dorotea reclinò il capo che le fu reciso con un colpo di spada. Tanto fu edificante la morte di Dorotea preceduta a quell'evento prodigioso che il giudice Teofilo proclamò la sua conversione alla fede di Cristo. Per questo suo tradimento anche lui fu condannato alla pena capitale mediante decapitazione e nel martirio elogio il suo nome associato alla nostra Dorotea. Se questa narrazione ti è piaciuta o se trovi interessanti i contenuti di questo canale inizia a mettere un like a questo video e poi iscriviti pure al canale naturalmente cliccando la campanella per avere ogni giorno gli aggiornamenti. Tieni presente che il canale mediamente carica da uno o due video al giorno. Se poi vi sono delle richieste particolari o preghiere particolari che possono essere create mediante un video potete assolutamente scrivere o nel link in descrizione in cui ci sono i riferimenti per la mail oppure dove vi sono le possibilità di risposta. Grazie.